Salve amici e benvenuti! GTA 6 è stato liccato a bestia! Stamattina sono usciti video su video su video liccati da una build di GTA 6 che non saprei neanche se definirla build. In realtà siamo oltre il pre-alfa, probabilmente sono dev kit, prove, testing, alcuni in ambienti dove non c'è niente, c'è solo il soggetto che testa delle cose, ci sono delle sparatorie, ci sono dei pezzi di quest però senza texture o con texture così placeholder, insomma tutto veramente in uno stato embrionale del gioco. Ma tant'è che sono su internet. In questo momento che vi parlo non solo sono facilmente trovabili su Reddit o via traverse ma proprio su YouTube. Tantissimi canali li stanno condividendo senza filtro e anche canali con centinaia di migliaia di iscritti. Secondo me tutti questi sono completamente pazzi perché Rockstar nell'arco di pochissimo tempo non solo strikerà tutti questi video per copyright ma questi rischiano anche la chiusura del canale perché secondo me Rockstar a sto giro si incazza veramente perché sono uscite cose che ovviamente non dovevano uscire. Il bello è che GTA 6 fino adesso all'eolo ufficiale neanche esisterebbe quasi, nel senso che Rockstar non ha neanche annunciato effettivamente il titolo vero e proprio, potrebbe anche non chiamarsi GTA 6 per quanto ne sappiamo. E non ha fatto uscire niente, neanche l'annuncio ufficiale, il logo ufficiale, un teaser trailer, nulla. E in realtà adesso su internet sappiamo di tutto e di più. Vi ripeto ci sono più di 90 video per un totale di più di un'ora di footage preso da questo, da queste build diciamo così, da questi dev kit. Si sa che questi dev kit sono stati ripresi anni e anni fa, ancora prima delle next gen, tant'è che alcuni user dicono che siano dev kit pc e playstation 4. Ma state tranquilli, io non credo proprio che sarà cross gen questo gioco, semplicemente quei footage sono così vecchi che fisicamente probabilmente non avevano i dev kit delle nuove console. È una situazione molto incresciosa, però dal nostro punto di vista dei giocatori molto curiosi sicuramente, che cercano le informazioni sempre sui nuovi giochi e in particolare su GTA 6. Insomma, questi rig sono abbastanza interessanti. Io me li sono visti un po', certamente non tutta la ora, ma diciamo una decina di minuti, una quindicina di minuti, giusto per farmi idea di cosa stavo guardando. E a mio avviso sono palesemente legit... questo è sicuramente GTA 6, però questo è anche sicuramente una build appunto embrionale. Quindi vi fermo subito, già gente fa commenti, ma non mi sembra un gran che questo gioco. Ragazzi, non si possono commentare niente. È letteralmente la fase embrionale di un gioco dove si testano le cose base. Però è interessante perché abbiamo capito che Vice City è vera, nel senso tanti leak sul fatto che questo GTA 6 potesse essere ambientato in Vice City, Miami, e sarà così perché è palesemente Vice City. A questo punto possiamo assumere che anche tanti altri leak che sono arrivati nei mesi scorsi, negli anni scorsi, potrebbero essere veri. Per esempio quella sul fatto che ci sia un doppio o triplo protagonista con una donna, perché in questi video c'è come protagonista anche una donna. Un'altra cosa molto interessante che si è capita, o comunque molti leak hanno detto, è che ci sarà un sistema simile a quello di Red Dead Redemption 2. Quindi l'interazione con gli NPC, qualsiasi tipo di NPC, non solamente quelli importanti delle quest, ma con chiunque. Quindi potremmo probabilmente fare delle azioni che triggereranno qualsiasi NPC e quindi potrebbero accadere cose super a caso. Su Red Dead era molto simpatica che questa situazione aumentava tantissimo il realismo e l'essere immedesimati nel mondo. Certo GTA è tendenzialmente un gioco molto più arcade, meno simulativo, però potrebbe essere super interessante. Si è visto in questi leak anche che c'è una sorta di app di messaggistica tipo Whatsapp con cui si comunicherà con le altre NPC, altri personaggi importanti per quest e anche cose di svago. E anche una cosa sulle armi potremmo cambiarle di mano e anche raccoglierele a terra nel bel mezzo della battaglia. Comunque a parte le cose che si sono viste, che si sono potute vedere in questi 90 video, sono super curioso della reazione che avrà Rockstar nei prossimi giorni. Anche perché è possibile, è molto possibile, che ne usciranno altri di questi leak, perché chi li ha fatti uscire in maniera anonima ha detto che ne ha ancora e ancora. Quindi è veramente una perdita di informazioni allucinante dagli studi Rockstar. Quindi come reagirà Rockstar? Farà uscire qualcosa di ufficiale? Farà uscire prima del previsto un magari un teaser trailer che avevano preparato per il prossimo futuro? Che ne so, magari per il Games Award Show avevano preparato un teaser trailer e lo fanno uscire prima per cercare di placare un po' situazione? O usciranno con informazioni ufficiali? Non lo so. Secondo me è possibile che lo facciano perché l'imponenza di questi leak è veramente straordinaria. A mia memoria non ricordo che un gioco così importante avesse avuto un leak così grosso, proprio come quantità di informazioni. E dato che, ve lo ricordo, tantissimi sono veramente stupidi e si mi sono messi già a commentare quello che hanno visto di gameplay in questa versione embrionale, come se fosse effettivamente il gioco quasi finale, devono fare qualcosa a livello di comunicazione, perché questa è una brutta pubblicità per loro, di fatto. Insomma, ne vedremo delle belle nei prossimi giorni, ne sono sicuro. Rimarrò sicuramente con le orecchie puntate, perché è un argomento interessante. I GTA li ho giocati sempre tutti, primissimi su PlayStation 1 e sicuramente GTA 6 mi interessa, se non per il multiplayer, che non mi è mai piaciuto particolarmente in GTA 5, anche semplicemente per la campagna, per il cazzeggio che si può fare. Quindi io sono molto interessato a GTA 6 e quindi seguirò con molta attenzione i sviluppi della faccenda. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se avete visto questi leak, dato che è abbastanza semplice trovarli su internet e datevi un po' le vostre opinioni, cosa ne pensate di questi leak, di Rockstar, cosa farà, cosa non farà e cosa vi aspettate dal gioco, a prescindere dalle piccole informazioni che sono uscite fino adesso. Scrivetevi tutto quello che avete sotto nei commenti e noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sempre sul gaming a 360 gradi. Un saluto, statemi bene e alla prossima. Ciao ciao!